un corso per l'ammissione della prima classe del corso normale della Marina Militare. L'On. Rampelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Thank you, Speaker. Dear colleagues, dear Minister Pinotti, se proseguissi questo intervento in inglese, il Presidente della Camera mi toglierebbe la parola perché la lingua, lo so, io l'ho prevenuta, ufficiale del Parlamento italiano, è l'italiano. Mi domando come possa essere venuto in mente e come possa essere tollerato alla Marina Militare italiana e quindi alle Forze Armate italiane di varare una campagna per reclutare nuovi giovani in lingua inglese con i soldi dei cittadini italiani. Be cool, enjoy the Navy, sii figo, arruolati nella Marina. È uno slogan inaccettabile. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, vuole sapere come il Governo intenda porre rimedio a questa gaffa. Grazie. La Ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie. La campagna di comunicazione lanciata dalla Marina Militare, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, realizzata in house, dalla Forza Armata, si rivolge principalmente ad un pubblico giovane ed ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione al concorso per la missione all'Accademia Navale, come lei ha ricordato. Il nodo focale è costituito dall'uso dell'espressione be cool, traducibile in italiano come essere giusto e fiducioso delle proprie capacità. Nella parte bassa del manifesto viene inoltre un rimando al sito istituzionale della Marina, dove gli interessati possono acquisire informazioni e approfondire i compiti e le funzioni della Forza Armata. La scelta della lingua inglese è stata fatta dalla Marina perché rappresenta un fattore di differenziazione rispetto agli slogan tradizionali, con l'obiettivo di richiamare, con un linguaggio semplice e di uso comune, l'attenzione dei giovani rispetto ad un'odierna figura di marinaio che richiede la voglia di mettersi alla prova in un contesto moderno, altamente tecnologico e internazionale. Lo slogan utilizzato, ampiamente diffuso nel linguaggio corrente, ha la sua ragione d'essere nella consapevolezza che i giovani, a cui oggi ci rivolgiamo, sono ragazzi cresciuti in un contesto sempre più aperto, parte di un mondo globalizzato, dinamico e senza frontiere, che si confrontano in rete con i coetanei di tutto il mondo, impiegando il linguaggio ormai universale diffuso da Internet. Se la bontà di una campagna di comunicazione si valuta dai risultati, va detto che quest'anno le domande di partecipazione al concorso per l'Accademia Navale sono aumentate del 20% rispetto a quelle dell'anno passato. Gli esperti della comunicazione direbbero che il fatto stesso che se ne parli e che il Ministro della Difesa sia oggi qui alla Camera a rispondere a un'interrogazione parlamentare evidenzia il successo dell'iniziativa e l'efficacia del messaggio trasmesso, che peraltro dimostra la capacità delle Forze Armate di rinnovarsi e di essere in sintonia con i tempi. Vorrei concludere dicendo che l'uso della lingua inglese non sottrae certo all'immagine della Marina Militare e di rinnovare il valore delle sue tradizioni che sono radicate nella storia e che possono essere declinate in forma moderna, proprio per renderle condivisibili con le nuove generazioni. Grazie. A facoltà di replicare l'Onorevole Rampelli. Presidente, Ministro, la risposta era prevedibilmente evasiva. La lingua, si dà il caso, sia strumento insostituibile per la diffusione della propria identità nazionale. La campagna e lingua inglese della Marina Militare ci fa venire in mente la metafora di una squadra sportiva che sveste la propria maglia per indossare quella di una squadra diversa, magari persino potenzialmente avversaria. Le Forze Armate italiane devono essere tenute al vincolo dell'identità e non soltanto a quello ci mancherebbe altro della fedeltà, che non è in discussione. Delle due l'una o si comunica in un'altra lingua per tentare di colonizzare un altro popolo o lo si fa perché si subisce la subalternità, la colonizzazione per conto terzi. Purtroppo temiamo che il caso denunciato risponda a una colonizzazione subita. E a noi, a Fratelli d'Italia, alleanza nazionale, non sta bene. Chiediamo, caro Ministro, che il Governo intervenga e sospenda questa campagna che noi giudichiamo vergognosa. Questa campagna deve essere ritirata perché se è vietato parlare in lingua italiana nel Parlamento italiano deve essere per analogia vietato alla Marina Militare e alle Forze Armate italiane di fare delle campagne di arruolamento in lingue diverse rispetto a quello che è l'idioma italiano che peraltro non abbiamo chiesto fosse tutelato nelle riforme costituzionali entrando nella Costituzione italiana dove ancora purtroppo non va scritto che la lingua ufficiale e unica dello Stato italiano è l'italiano. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.289 dei deputati Gianluca Pini ed altri concernente chiarimenti in merito all'annunciata partenza della fregata grecale verso le acque prossime alla Somalia in relazione alle procedure previste per la partecipazione italiana alle attività di contrasto alla pirateria nell'Oceano Indiano. L'On. Marcolina ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confermatario per un minuto. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, nonni colleghi, il 30 gennaio la difesa ha annunciato che il primo ferraio seguente la partenza della fregata grecale verso le acque antistanti della Somalia precisando che la nave avrebbe sostituito il caccia torpedinieri Andrea Doria nella conclusione del semestre di cui la Marina Militare Italiana ha esercitato il comando della missione antipirateria dell'Unione Europea denominata ATRANTA. È giunto in effetti solo ieri, a 40 giorni dopo l'ospirare del precedente termine di proroga ma che abbiamo potuto prendere atto la scelta del Governo di andare avanti con la missione. Quindi noi chiediamo praticamente come mai il Parlamento non è stato reso edotto di ciò che era una decisione presa dal decreto 109 che subordinava ad una valutazione concernente l'evoluzione del caso anche sui due Marò, Massimiliano Lattorne e Salvatore Girone che secondo noi andava ad essere per prima cosa presa in considerazione. Il Ministro di Difesa Alberto Pinotti ha facoltà di rispondere per tre minuti. In merito alla partenza della fregata grecale per la missione antipirateria dell'Unione Europea Atalanta ha desidero confermare in questa sede quanto ci ha evidenziato nel comunicato stampa del Ministero della Difesa dello scorso 30 gennaio. In particolare in quella data l'unità era in Mediterraneo, in fase di addestramento e di approntamento per lo svolgimento di attività di sorveglianza marittima sotto catena di comando nazionale. Rispetto a tale situazione vorrei evidenziato che nel Consiglio dei Ministri di ieri, come lei ha ricordato, è stato esaminato ed approvato il decreto di proroga, abbiamo atteso la nuova elezione del Presidente della Repubblica, delle missioni internazionali, che seguirà ora il previsto iter parlamentare di conversione in legge. Il Governo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3,4 della legge 141 2014, ovvero che la partecipazione italiana alle missioni di antipirateria deve essere valutata in relazione agli sviluppi della nota vicenda dei due fucilieri di Marina, ha ritenuto opportuno continuare ad assicurare per ora la sola partecipazione del nostro Paese alla missione dell'Unione Europea, denominata Atalanta, anche alla luce dei rinnovati impegni assunto dall'Unione con la risoluzione numero 2015-2512 dello scorso 15 gennaio sul caso di Massimiliano Latore e Salvatore Gironi. Ovviamente questa è la proposta che il Governo ha fatto nel decreto, ci sarà una discussione parlamentare, se ci saranno orientamenti diversi nel Parlamento ne prenderemo atto e seguiremo quelli che sono questi orientamenti. Però non si è contravenuto a quanto stabilito ed è ovviamente importante che ci sia anche la discussione parlamentare. La ringrazio il Ministro. Prima di dare la parola a un'onorevole Marcolin, informo l'onorevole Marcolin e i colleghi di Rega che se si espone la maglietta che viene portata sotto le giacche, io immediatamente tolgo la parola a un'onorevole Marcolin. Prego, un'onorevole Marcolin. Speriamo di no perché qua ormai a togliere la parola è una cosa di moda. Io ringrazio la Ministra della sua risposta, chiaramente non mi ritengo soddisfatto anche perché credo che le priorità siano veramente, erano e sono i nostri due fucilieri di Marcol i nostri due fucilieri di Marcol che purtroppo sono ancora uno è a casa per note vicende di salute però l'uno è ancora in India. Potevamo chiaramente portarli a casa, instaurare un rapporto con l'India un po' diverso ma ancora in tempi passati, in cui invece si è preferito agire in maniera diversa. Io credo che con la stessa Solerzia, visto che erano nel Mediterraneo e che io mi accingerò fra breve a fare magari il sindaco di Agrigento e dove Agrigento è la porta del Mediterraneo dell'Africa verso l'Europa credo che questa caccia torpediniera avesse forse più idonea a sorvegliare questo mare a sorvegliare ed aiutare chiaramente al ritorno quegli esuli che sono costretti come abbiamo visto in questi giorni, costretti ad imbarcarsi sotto pagamento e quindi diciamo così, fan sì che tutti sfruttino queste disgrazie a loro piacimento a seconda del colore politico. Noi rimandiamo veramente a chi di noi fa sì che siamo delle persone che non abbiamo cuore, che non abbiamo sentimenti noi li abbiamo veramente alti e penso che in un'azione che il Mediterraneo dovrebbe avere sia proprio quella di tutelare ciò che sono sia le nostre coste sia chi parte profuo, esule da terre diverse per venire qui con la speranza di un'accoglienza mentre sono costretti a salire e dovremmo sì curarli ma riportarli a casa. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.290 dei deputati Pannarale ed altri concernente elementi di iniziativa in merito ai lavoratori ricompresi nella cosiddetta quota 96. L'onorevole Pannarale ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Ministra Madia, oggi raccontiamo una lunga storia di violazione di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Quota 96, il più clamoroso errore della riforma Fornero. Se fosse una medaglia avrebbe due facce. Da un lato quella dell'ingiustizia, dall'altro quella dell'incapacità. E quest'ultima faccia è indubbiamente quella del Governo. Per ragioni di tempo salterò i passaggi sulle innumerevoli iniziative parlamentari di questi anni. Ricorderò invece alcune sue dichiarazioni. Estate 2014. L'aver escluso dal decreto sulla pubblica amministrazione tali pensionamenti non è una rinuncia del Governo. Inseriremo la norma in un provvedimento organico più ampio. Il ricambio generazionale mi sta a cuore. Siamo a febbraio 2015. Le do l'occasione di rispondere oggi, Ministra. Qual è il numero effettivo di questi lavoratori? Visto che ci risulta che la platea si sia ridotta di oltre 1.300 unità. Quando e con quale provvedimento ad hoc consentirete a questi lavoratori di andare in pensione il 1 settembre 2015? Grazie. Il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione è Maria Anna Madia. Facoltà di rispondere per tre minuti. Sulla cosiddetta questione quota 96, per diverse ragioni, anche rispetto a delle scelte complessive del Governo, non si sono verificate le condizioni per un intervento unico. Si tratta, lei onorevole mi chiede, i numeri di circa 4.000 docenti. Questi sono dati IMS aggiornati confermati dal MIUR, ai quali però possiamo sottrarre circa 1.000 insegnanti che verranno tutelati dalla sesta salvaguardia e ai quali nei prossimi giorni arriverà dall'IMS la comunicazione del diritto a pensione con la quale potranno presentare domanda di cessazione entro il 2 marzo. Rimarrebbero quindi circa 3.000 insegnanti che, a seguito della riforma Fornero e per effetto, come ricordava, dei tempi di pensionamento dettati dall'articolazione dell'anno scolastico, hanno subito un aumento della loro permanenza al lavoro. La politica del Governo è ora, prima di tutto, incentrata sull'obiettivo di concentrare le risorse per favorire il lavoro di chi un lavoro non ce l'ha, in particolare dei giovani, di chi è rimasto escluso o rischia di rimanere escluso dal mercato del lavoro, anche in conseguenza della crisi economica che dura da anni e per uscire dalla quale, come Governo, concentriamo ogni sforzo. Importanti, ad esempio, e con soddisfazione voglio sottolinearlo oggi, sono gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni che abbiamo approvato con la legge di stabilità per i prossimi tre anni e che già stanno dando risultati incoraggianti. In questo quadro ci impegniamo anche, in questo quadro di priorità, ci impegniamo anche in un imminente provvedimento legislativo del Governo a far uscire dalla precarietà i tanti insegnanti con contratti a termine che lavorano nella scuola. Ministra Madia, la sua risposta è imbarazzante perché incredibilmente vacua. Cioè, lei non ha neanche provato a raccontarci, ad esempio, che nella buona scuola si potrebbe provare a risolvere finalmente la questione dei quota 96. Lei oggi non ha neanche parlato di buone intenzioni, ci ha detto in maniera chiara che questa vicenda non si risolverà più. Io non lo so se lei ha mai provato ad immaginare una docente di 64 anni che la mattina, invece di occuparsi dei suoi desideri e dei suoi cari, prende il treno per i pendolari e va in una classe sovraffollata dove magari trova 29-30 bambini che hanno tra i 3 e i 6 anni. E non so se al tempo stesso ha provato a immaginare, nella stessa situazione, una giovane insegnante che viene finalmente stabilizzata su questa cattedra grazie all'uscita di questi insegnanti e che prova, diciamo, a consolidare un suo progetto di vita. Questi lavoratori non stanno questuando un privilegio, una gentile concessione da parte del Governo. Questi lavoratori stanno rivendicando un loro diritto, un loro diritto che è stato maturato nel corso del tempo e che continua ad essere negato, come lei ci ha confermato poco fa dal Governo. L'unico atto chiaro che questo Governo è riuscito a fare è la Costituzione in giudizio contro questi lavoratori perché a fronte della recentissima sentenza del Tribunale di Salerno che aveva peraltro ridato speranza a 42 lavoratori, il Miur ha deciso di ricorrere in appello uccidendo anche questa fioca speranza. Cioè qui stiamo parlando di lavoratori ai quali un giorno è stato detto è vero, abbiamo sbagliato, non in una lettera privata ma in un atto del Governo e però non possiamo risolvere perché le compatibilità economiche vengono prima della scuola e dei diritti. Lei, Ministra, si assume oggi la responsabilità di dire che il Governo sta da un'altra parte rispetto ai lavoratori, rispetto ai diritti e rispetto alla dignità? Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.291 dei deputati Rizzetto ed altri concernente iniziative per il collocamento degli doni di concorso attraverso lo scorrimento delle graduatorie in attuazione del Decreto Legge numero 101 del 2013. L'On. Rizzetto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie, Presidente. Ministro, sarò sicuramente più breve. Con le meloni, gentilmente, grazie. Ricordando al Ministro Madia, sappiamo tutti che cosa stanno subendo, circa 84.000 idonei, non vincitori di concorso, ma idonei. Ministro, lei aveva assicurato, cito un suo virgolettato di qualche settimana, di qualche tempo fa, che era intenzione del Governo tutelare le aspettative degli idonei prima di procedere a nuove assunzioni. Tra l'altro, la corrego, Presidente, anzi, non la corrego tecnicamente, ma politicamente, questa non è proprio, con l'emendamento in seno alla Legge di Stabilità 2015, non è proprio l'attuazione del Decreto 101 del 2013, come sappiamo tutti. Grazie. Grazie. Il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, Mariana Madia, facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie, Presidente. L'azione di Governo è concentrata su una serie di riforme, tra le quali un punto qualificante è l'attuazione rapida della legge 56 sul superamento delle province, la cosiddetta legge del Rio. A tal fine, noi come Governo concentriamo ogni sforzo sull'esigenza di ricollocare, in base alle loro competenze e in uffici dove ce n'è bisogno, tanti dipendenti pubblici. E un esempio che mi sta particolarmente a cuore è quello di colmare le carenze di organico degli uffici giudiziari attraverso proprio la mobilità dei dipendenti delle province. Tutto questo nulla toglie ai vincitori di concorso. Il Governo riconosce l'assoluta priorità a chi ha vinto un concorso pubblico e la legge di stabilità, proprio nel percorso di mobilità che ho menzionato, ha fatto salvi i vincitori di concorso. Io credo che non sia ammissibile che una pubblica amministrazione bandisca un concorso per determinati posti e poi non assuma i vincitori di quel concorso. E anche per evitare questo effetto che abbiamo avuto negli anni passati, nel Decreto Legge 90 ho voluto semplificare le procedure di assunzione eliminando la doppia autorizzazione, quella che c'era prima del Decreto Legge 90. Prima, per assumere, c'era un'autorizzazione a bandire ed una ad assumere. Oggi c'è un'unica autorizzazione a bandire e ad assumere, successivamente al Decreto Legge 90, approvato a giugno dal Consiglio dei Ministri. Ho parlato però finora di vincitori di concorso, che si trovano in una situazione diversa e di maggior diritto rispetto agli idonei. Anche gli idonei, voglio sottolinearlo, meritano un'attenzione, soprattutto dopo che, come giustamente ha ricordato Onorevole Rizzetto, nella sua interpellanza recenti legge, la legge d'Alia, sentenze, hanno chiesto alle amministrazioni di ricorrere alle graduatorie in corso di validità prima di bandire nuovi concorsi. Ma questa attenzione non si può tradurre, come per i vincitori, infatti hanno una denominazione diversa, in un diritto, in una certezza. Vogliamo tutelare anche le aspettative delle idonei, ma questa tutela non può andare a danno di persone che, andando in mobilità o avendo vinto un concorso, appunto un concorso pubblico lo hanno vinto. Grazie a facoltà di pregare l'Onorevole Rizzetto per due minuti. La ringrazio, Ministro. Assolutamente d'accordo con lei con l'ultima parte del suo intervento, nel senso che vanno tutelati sicuramente i vincitori di concorso, ma secondo noi vanno tutelati anche gli idonei, perché hanno passato un concorso pubblico, non l'hanno vinto, come da lei giustamente ricordato, ma erano stati dichiarati idonei. Quindi se l'etimologia del termine non mi sfugge, sono idonei a fare un certo tipo di lavoro. Sono ufficialmente 84.040, ma, come ricordato prima, il Governo, con un emendamento in seno alla legge di stabilità e la conseguente, come da lei ricordato, abolizione delle province, si è ritrovato con circa 20.000 persone da riallocare, bloccando di fatto il turnover. Per questi 80.000 e passa idonei il posto si è quindi volatilizzato, di fatto, si è volatilizzato, forse per sempre, in quanto, lei lo sa, le graduatorie scadranno a fine del 2016. Ci sarà quindi un boom di ricorsi alla magistratura, appesantendo la magistratura, evidentemente, e l'intento chiaro dell'esecutivo, secondo noi, è quello di arrivare alla scadenza naturale delle graduatorie, ovvero il 2016, senza dare nessun tipo di possibilità di subentro. L'emendamento di cui lei parlava, tra l'altro, è frutto di una legge che, prevedendo l'eliminazione delle province, potenzialmente, è incostituzionale. E quindi, a cascata, questi provvedimenti sono incostituzionali. Gli idonei rivendicano, evidentemente, soltanto i loro diritti ecceggente che è a casa e che sta aspettando da 7, 8, 10 anni. La soluzione, chiudo, Presidente, era quella individuata dalla 101 del 2013 dell'ex ministro Dalia, che prevedeva che per tutte le amministrazioni dello Stato l'attingimento delle graduatorie fosse prima di bandire dei nuovi concorsi, mentre oggi lei, ministro, sconvolge di fatto, mi dispiace, incostituzionalmente, questo impianto. Presidente, ho concluso. Non mi ritengo soddisfatto della risposta. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3.292 dei deputati Borghi ed altri concernente obiettivi e priorità di finanziamento con riguardo ai progetti volti alla tutela del suolo e al riassetto idrogeologico. L'onorevole Maria Chiaragadda ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Grazie, Presidente. Signor Ministro, il nostro Paese si trova con sempre maggiore frequenza a dover affrontare le emergenze e gestire i danni spesso ingenti provocati da calamità naturali. È chiaro, signor Ministro, che non è più derogabile un concreto programma di prevenzione che riguardi da un lato un piano pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio e dall'altro la necessità di risolvere a monte il tema dell'uso e del degrado del suolo. Quando sono in gioco la qualità della vita delle persone e la loro salute, la possibilità di sviluppo delle nostre imprese e delle nostre competenze, è evidente che il suolo non può essere salvaguardato solo attraverso strumenti urbanistici. La Commissione europea nel 2006 ha proposto la strategia tematica per la protezione del suolo, misure che purtroppo non hanno ancora avuto concretizzazione. E dal primo maggio il nostro Paese sarà vetrina del mondo. L'esposizione universale offre la possibilità di aprire una riflessione sul valore dell'alimentazione, sui modelli di produzione e sull'uso che facciamo della terra. E in questo senso va valutata molto positivamente l'iniziativa del Ministero dell'Ambiente, mi avvio la conclusione, e del Ministero delle Politiche Agricole volta a incentivare il risediamento degli agricoltori nei territori abbandonati. Grazie. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio del Mare, Gianluca Galletti, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie, Presidente. Prima di tutto ringrazio gli interroganti che pongono un'esigenza vera all'attenzione oggi del Ministero. Noi abbiamo da tempo l'esigenza di interventi organici e programmati nel tempo per la messa in sicurezza del territorio. In questa direzione ci siamo attivati nell'ultimo periodo. Da un lato, lo ricordo, con la predisposizione di un piano pluriannale che prevede un impegno economico di 7 miliardi in 7 anni per affrontare le maggiori criticità che abbiamo oggi sul Paese. Dall'altro, e non sottovalutiamolo, con il varo della strategia nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici che vede nella manutenzione del territorio uno dei suoi elementi cardine nel lungo periodo. Colgo anche questa occasione per ricordare al Parlamento l'urgenza di approvare un altro provvedimento che io ritengo chiave in questa materia e cioè il disegno di legge sul consumo del suolo che rappresenta un nuovo punto di partenza soprattutto culturale nella gestione del nostro Paese. Nella programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari il Ministero dell'Ambiente è coinvolto in vari programmi il programma nazionale città metropolitane imprese e competitività infrastrutture e reti ricerche e innovazioni cultura, istruzioni e governance. L'accordo di partenariato fra il nostro Paese e la Commissione europea stabilisce che gli interventi saranno finanziati a valere sui POR sui programmi operativi regionali e sul programma nazionale di sviluppo rurale quest'ultimo di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. E' stata anche prevista che un'adeguata quota del Fondo Sviluppo e Coesione sia destinato proprio alla realizzazione di interventi di riduzione del rischio derivante dal dissesto idrogeologico bonifiche, infrastrutture idriche e ambientali strategiche specificando in questo caso che la territorialità diretta delle amministrazioni centrali con particolare riferimento proprio al Ministero dell'Ambiente nell'indirizzo e nella gestione di queste risorse. Tali risorse, come già previsto la legge di stabilità 2015 dovranno essere destinate lo ricordo, a obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e saranno ripartiti dal Cipre entro il prossimo mese di aprile. Grazie. La facoltà di replicare l'On. Borghi per due minuti. Ringrazio, Signor Presidente ma innanzitutto desideriamo esprimere un ringraziamento al Ministro Galletti per la risposta che ci soddisfa parzialmente la nostra iniziativa vuole sostanzialmente mettere al centro un tema il tema di lavorare in una logica proattiva rispetto alla questione del dissesto e non in una logica di intervento a valle e su questo l'impegno che il Governo assume in questa Aula di poter impegnare le risorse del quadro comunitario di Stastegno nella prossima programmazione è un elemento importante. Chiediamo al Ministero dell'Ambiente di svolgere un'azione di coordinamento più marcata e più consistente in considerazione anche dei contenuti di un provvedimento che è in fase di definizione pensiamo al tema del collegato ambientale che il Senato sta per varare e sulla base di un altro provvedimento che il Presidente del Consiglio ha annunciato il cosiddetto Green Act che dal nostro punto di vista deve inserire la concretizzazione degli elementi che oggi il Ministro ha qui dettagliato nelle sue linee generali. Dentro questo si tratta di dare corpo e sostanza a quella strategia di mitigazione del cambiamento climatico a cui lei ha fatto riferimento e per la quale riteniamo che il nostro Paese in occasione dell'appuntamento di Parigi di fine anno come già abbiamo avuto occasione di esprimere in altre circostanze si debba presentare con degli elementi molto concreti. Quindi in questo senso crediamo che il Ministero dell'Ambiente debba e possa svolgere una funzione più marcata. Grazie. A lei passiamo all'interrogazione 3.293 dei deputati Vargiù ed altri concernente iniziative di competenza in merito alla destinazione del complesso del cosiddetto ex ospedale marino di Cagliari presso la spiaggia del Poetto. L'Onorevole Vargiù ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Signor Ministro una data il 1982 viene abbandonato lo stabile dell'ex ospedale marino di Cagliari sono 6.000 metri cubi sulla spiaggia del Poetto sottratti a ogni sviluppo economico e turistico della nostra città. Nel 2006 finalmente un bando di gara nel 2007 il bando di gara viene aggiudicato. A bando aggiudicato interviene la sovintendenza con un vincolo che aiuta a scappare a far scappare il vincitore e si arriva alla schizofrenia che laddove c'era un ospedale sulla spiaggia di Cagliari rischia di esserci una casa di cura privata. Finalmente nel 2015 la regione sembra accorgersene e parla di revoca del bando. 33 anni di sfregio della spiaggia del Poetto. Cagliari è una città esausta col vincolo della sovrintendenza ci sono due rischi il primo che non si possa buttare giù il bene che è vincolato il secondo che la ristrutturazione rischia di non essere economicamente sostenibile non possiamo permetterci altri 33 anni così cosa può fare il suo ministero perché sovrintendenza ha regione comune e lavorino insieme. Grazie il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie presidente devo dire che la visione degli atti dei procedimenti di questo periodo lungo troppo lungo però dimostra che gli uffici territoriali del ministero hanno cercato un'interlocuzione sia con gli altri enti coinvolti che con le ditte giudicatrici. E' stato espresso un parere favorevole nel dicembre del 2010 in sede di conferenza dei servizi poi formalizzato dalla sovrintendenza competente a condizione che si fornissero alcune integrazioni con tavole dettagliate poi ribadito senza particolari ulteriori prescrizioni da due differenti note del novembre e del dicembre 2013 sia per le competenze relative all'applicazione della parte seconda del codice dei beni culturali che per le competenze in materia di paesaggio. Per questo non pare imputabile a questo ministero un rallentamento né un blocco delle procedure di approvazione. Il progetto è relativo alla riqualificazione appunto dell'ex ospedale marino presentato dalla società Prosperius e dall'istituto Prosperius in qualità del costituendo raggruppamento di imprese che è stato giudicatario dopo una serie di ricorsi. Tale progetto riguarda l'intero intervento sull'edificio e sull'area con termini finalizzato alla costituzione di un centro specializzato nel recupero motorio e nella riabilitazione. Il complesso immobiliare che è già sottoposto a tutela o peleggisi in quanto di proprietà pubblica e costruito da oltre 50 anni è stato riconosciuto di interesse culturale con decreto del settembre 2007 e successivamente ha prescritto accordo per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio regionale tra la regione Sardegna e la direzione del ministero dei beni culturali che non ha pregiudicato in alcun modo l'eventuale riuso e valorizzazione a fini sociali così come evidenziato da tutti i pareri favorevoli dagli organi proposti della tutela gli uffici del territorio mi hanno informato che l'assessore all'urbanistica della regione Sardegna ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a dicembre 2014 che l'annullamento dell'intero iter della gara d'appalto per la rifunzionalizzazione dell'ospedale marino è stato determinato per irregolarità procedurali però gli uffici non risultano alcun atto formale da parte della regione Sardegna a seguito di quella conferenza stampa detto questo il ministero è ovviamente disponibile nel rispetto delle regole nel rispetto delle diverse competenze come è avvenuto in passato anche attraverso interlocuzioni con gli enti preposti con le diverse competenze degli enti territoriali per trovare una soluzione ma lo può fare soltanto nell'ambito delle proprie competenze non andando oltre queste grazie facoltà di replicare l'onorevole Vargi per due minuti grazie signor ministro purtroppo devo integrare alcune considerazioni che forse non le sono state fornite nel dettaglio nel 2006 quando la regione fece il bando il bene non era sottoposto a vincolo il vincolo intervenne quando il bando era già stato aggiudicato e questo fece scappare contribuì a far scappare il vincitore che aveva accettato la destinazione turistica il successivo vincitore voleva farci una casa di cura privata è una casa di cura privata con letti accreditati e convenzionati ed è quello che ha determinato che nel 2014 alla fine del 2014 la regione annunci che ci sarà la revoca del bando siccome nel 2007 il sovrintendente disse l'errore che ha fatto la regione è che non ci ha parlato preventivamente di cosa fare nell'ex ospedale marino altrimenti avremmo potuto lavorare insieme noi vorremmo che quando la regione formalizzerà la revoca del bando che dovrebbe essere imminente la sovrintendenza sia parte attiva a contattare immediatamente sia la regione che il comune perché la città di Cagliari esausta disperata come è disperata la regione Sardegna non può permettersi altri 33 anni di unrudere sulla spiaggia più bella d'Italia che è utilizzata come spiaggia immagine di Expo 2015 quindi chiediamo al suo ministero un intervento attivo grazie passiamo all'interrogazione 3.294 dell'onorevole Calabro concernente elementi iniziative in merito ai programmi e ai lavori di restauro e messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei l'onorevole Calabro ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto grazie presidente signor ministro come le sale e le piogge della scorsa settimana hanno determinato lo smottamento di una parte del terreno della casa di Severus a Pompei e il cedimento del terreno ulteriormente ha fatto franare una porzione anche del muro di contenimento del giardino peraltro siamo in un'area l'area interessata da questo smottamento che è compresa nel programma di messa in sicurezza previsto dal grande progetto Pompei va detto pure che la sovrintendenza sta avviando una convenzione con i vigili del fuoco proprio per intervenire su queste aree così frequentemente ma ormai sono più di 30 i crolli verificatisi a Pompei negli ultimi 5 anni e tra gli episodi cedimenti riferisco al Tempio di Venera alla tombia di Lucir sul Pubblicio su una bottiglia di Nolo la richiesta signor Ministro è che vorremmo sapere quando partono sul serio i programmi i lavori di restauro la messa in sicurezza di tutto il sito di Pompei che senz'altro è considerato un bene dell'umanità grazie il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha facoltà di rispondere per tre minuti grazie Presidente in effetti nei giorni scorsi come hanno riportato i giornali si è stato un smottamento di una porzione di terreno nel Reggio Ottavo questo giardino è sorretto da un muro di terrazzamento che è stato costruito su un banco rocciosi regolare e le piogge visto la particolare pendenza del sito hanno una grande quantità d'acqua è stata la causa del cedimento i lavori di messa in sicurezza del Reggio Ottavo lei ha fatto riferimento al grande progetto Pompei interessano l'insula 1 e la porzione dell'insula 2 ma non interverranno al momento in questo luogo perché si aspettava ed è arrivata che la progettazione sarebbe stata possibile soltanto ora che è stato eseguito con un intervento del grande progetto Pompei il rilevamento del fronte meridionale della collina abbiamo attivato la sovrintendenza ha attivato un accordo con i vigili del fuoco un'apposita convenzione per il più possibile vigilare sulle situazioni d'emergenza inoltre grazie all'accordo che abbiamo stipulato un anno fa con Finmeccanica tutta l'area è sottoposta al controllo satellitare per verificare gli smottamenti dei terreni ma rispetto a questo episodio nemmeno il satellite di Finmeccanica ha rilevato possibili cedimenti a dimostrazione che è stato un fatto improvviso ora quello che io è stato riportato in Parlamento nella relazione prevista dalla legge nell'audizione del generale Nistri che è il direttore del grande progetto Pompei gli interventi si stanno facendo e si stanno facendo in modo consistente rispettando le regole europee e rispettando ad oggi i tempi europei sono stati banditi interventi per un totale di 96,2 milioni di euro il piano della conoscenza è stato interamente bandito 8 milioni di euro sono tre i cantieri conclusi sono nove i cantieri aperti sono sei le gare aggiudicate sono tredici le gare con la procedura di affidamento in corso e sei le progettazioni in corso è avviato il piano della sicurezza e quindi stiamo seguendo anche sulla base di un accordo firmato con il commissario europeo nel luglio scorso che prevede il rispetto di questi tempini per accedere ai finanziamenti europei la sovrintendenza speciale e il il grande progetto Pompei stanno facendo tutto il massimo possibile io vorrei però che fosse chiare colgo questa occasione che qualche volta appare che una volta spesi 105 milioni di euro della finanziamenti europei sia risolto il problema di Pompei non è così sarà sempre un cantiere aperto sono 66 ettari di cui 44 già scavati e 22 da scavare esposti a cielo aperto è evidente che questo tipo di sito queste dimensioni comporterà sempre un lavoro continuo di manutenzione per cui stiamo intervenendo sul personale e che non si completterà nel senso che sarà costantemente necessario prevenire con interventi di prevenzione che sono quelli che stiamo portendo avanti fare interventi di restauro ma fare sempre di più interventi di manutenzione grazie a facoltà di ripiegare l'onorevole Calabro per due minuti signor Ministro lei stesso si rende conto da quello che riferisce come i fenomeni stanno avvenendo con una frequenza eccessivamente notevole non abbiamo certamente timore del continuo cantiere ci rendiamo conto e lei ci ha perfettamente ragione che il cantiere ci sta ci sarà ci continuerà a essere ma abbiamo paura dei danni che si possono determinare al sito di Pompei i vigili del fuoco rappresentano quello che può servire in un'emergenza però evidentemente da quello che è successo è chiaro che il monitoraggio che è stato messo in atto non è adeguatamente sufficiente bene io credo come lo stesso dice che è meglio prevenire che curare quindi forse bisogna curare meglio il livello di monitoraggio grazie grazie a lei passiamo all'interrogazione 3.295 dei deputati Abrignani e Palese concernente iniziative di competenza al fine dell'effettivo avvio della riforma dell'ENIT l'onorevole Abrignani ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto grazie signor Presidente grazie signor Ministro allora l'articolo 16 del DL 2014-83 prevedeva la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e la liquidazione di promuovitalia nello stesso articolo era previsto il commissariamento dell'organo fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato entro 180 giorni da questa data di entrata il commissario avrebbe dovuto provvedere all'adozione del nuovo statuto dell'ENIT da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul proposto del Ministro dei Beni Culturali avrebbe dovuto adottare un piano di organizzazione e individuare la dotazione organica dell'ENIT in unità del personale e sottoporre promuovitalia ad oggi non si ha conoscenza se sia stato sottoposto al Presidente del Consiglio il nuovo statuto dell'ENIT per cui chiediamo al Signor Ministro di farci sapere cosa si può fare per porre rimedio alla situazione di stallo che non permette di avviare la riforma reale dell'ENIT e realizzare la struttura che serve al turismo grazie il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo Dario Franceschini ha facoltà di rispondere per tre minuti grazie Presidente Roleo Labrignani ha ricordato che il processo necessario di trasformazione e di modernizzazione dell'ENIT come contenuto nel decreto cosiddetto Arbonus e poi nel testo migliorato dai lavori parlamentari in sede di conversione ha disposto la trasformazione dell'ENIT in agenzia nazionale del turismo e ente pubblico economico la stessa disposizione ha stabilito che fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato tutte le funzioni dell'organo collegiale fossero svolti da un commissario straordinario con decreto del 16 giugno 2014 è stato nominato l'ingegnere Cristiano Radaelli commissario straordinario dell'ENIT fino all'insediamento degli organi in base ai disposti della legge si prevedeva che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge sarebbe dovuto approvare lo statuto dell'ENIT in anticipo rispetto a quella scadenza il commissario straordinario lo ringrazio per questo ha adottato il nuovo statuto dell'ENIT con deliberazione consigliare del 10 novembre 2014 e l'ha trasmesso al ministero dei beni delle attività culturali quale autorità vigilante naturalmente nella fase successiva alla trasmissione sono stati contatti tra la presidenza del consiglio ministero dell'economia ministero dei beni culturali che hanno portato alcuni affinamenti e il commissario dell'ENIT ha adottato il nuovo testo il 23 dicembre 2014 in quella stessa data il mio ministero ha trasmesso alla presidenza del consiglio per la firma lo statuto dell'ENIT questo è lo stato delle cose e quindi attualmente lo statuto dell'ENIT è dal 23 dicembre 2014 alla firma della presidenza del consiglio sapete perché questi elementi sono stati riportati più volte dalla stampa che è in corso una riflessione sulla possibile integrazione fusione o comunque che è raccordo tra ICE e ENIT naturalmente questa competenza essendo una competenza che riguarda più ministeri per sua natura rientra nelle competenze della presidenza del consiglio e quindi ritengo che il rallentamento nella firma derivi da una riflessione sull'ipotetica fusione ICE e ENIT grazie a facoltà di replicare l'onorevole Abrignani due minuti grazie presidente signor ministro io apprendo e apprezzo l'operato fatto dal commissario Radaelli nei termini apprezzo anche il sollecito con cui il suo ministero ha inviato la presidenza del consiglio il testo però io consiglio il governo un unicum e ad oggi questa trasformazione dell'ENIT al di là di tutte le riflessioni che vogliamo fare non c'è stata e non c'è io adesso non voglio per forza tirare in mezzo l'expo ma direi che in questo momento il turismo in Italia dovrebbe essere come qualcuno ha dichiarato un anno felix ma senza quello che è l'ente principale che dovrebbe occuparsi di turismo fermo al palo sicuramente non so quanto questo potrà avvenire per cui io quello che le faccio da questo banco e come gruppo è quello di sollecitare il più possibile questo tipo di riflessione in maniera tale che possa partire col piede giusto integrato non integrato insomma ci auguriamo che venga finalmente posto in condizione di svilupparsi in questo paese il turismo che è sempre stato considerato bene l'oro il petrolio del paese ma poi è sempre rimasto fermo e quello che stiamo vedendo oggi sull'Enit ce lo conferma ancora cioè tutti parliamo di turismo che serve al nostro paese poi quando si tratta di fare qualcosa le cose invece rimangono ferme per cui l'augurio è che il sollecito che ha avuto il commissario che ha avuto il suo ministero in qualche modo venga raccolto dalla presidenza del consiglio e finalmente l'Enit possa ripartire grazie grazie passiamo all'interrogazione 3296 dell'onorevole Santerini concernente iniziative volte alla riapertura del padiglione italiano del museo di Auschwitz e alla memoria della Shoah l'onorevole Santerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto grazie presidente signor ministro come lei sa negli anni scorsi abbiamo piuttosto trascurato la presenza italiana sulla memoria delle vittime deportate dall'Italia nel museo di Auschwitz quest'anno abbiamo approvato in legge di stabilità un contributo al museo e sono in corso una serie di appunto di azioni ma io volevo appunto chiedere a che punto siamo e come appunto ci stiamo occupando di questo aspetto che è fondamentale perché come lei sa noi abbiamo un'opera un'opera d'arte diciamo degli anni 70 che però non è stata approvata non è approvata dal museo e dobbiamo sostituirla con altre installazioni volevo appunto chiedere come valorizzare come proteggere sia l'opera d'arte che sposteremo che quella che dovremo realizzare grazie a facoltà di replicare e scusate a facoltà il ministro e dell'attività culturale del turismo Dario Franceschini a facoltà di rispondere eh sì l'onorevole Santellini ha ricordato la situazione dell'allestimento museografico del blocco 21 ad Auschwitz che secondo la direzione del museo non è più congruente con gli standard adottati dal museo da diversi anni su questo il governo da diversi mesi si è attivato l'opera d'arte che è una parte multimediale di grande impatto emotivo che però riflette l'atmosfera dell'epoca in cui fu realizzata e di proprietà dell'ANE dell'Associazione Nazionale degli Resti Deportati e che ha consentito dopo una riflessione al suo trasferimento in Italia e il governo si è adoperato per le modalità di trasporto dell'opera un'opera molto grande per programmare il restauro e poi la ricollocazione sono state diverse ipotesi di collocazione in città italiane la scelta finale caduta con condivisione e sollecitazione dell'Associazione Nazionale dei Deportati su Firenze per questo si sta predisponendo una convenzione tra l'ANE e il Comune di Firenze e la Regione Toscana e il MIBAC l'Università di Attività Culturali a cui spetterà la responsabilità tecnica e scientifica dello smontaggio il trasporto il restauro e poi la conservazione e il restauro interverrà all'opificio delle pittedure di Firenze prima della ricollocazione dell'opera poi sarà responsabilità in questo caso della Presidenza del Consiglio di disporre anche mediante un concorso internazionale di idee per come procedere al nuovo allestimento del blocco 21 del Museo di Auschwitz affinché insomma ci risponda a criteri più moderni più attuali dal punto di vista storico che museografico e vorrei anche precisare che la previsione di spesa di un milione di euro disposta dalla legge di stabilità del 2015 a favore della fondazione Auschwitz-Bickenau rappresenta invece il contributo italiano al fondo perpetuo della fondazione che è costituito da tutti i paesi per il mantenimento di tutto il complesso museale non soltanto del singolo blocco nazionale grazie a facoltà di replicare l'onorevole Santerini signor Ministro perché vedo veramente una concreta attenzione e anche una rinnovata attenzione ai luoghi della memoria non solo quello di Auschwitz ma naturalmente anche quelli in Italia io ricordo appunto il prossimo e il futuro speriamo il museo della Shoah di Roma quello di Ferrara il memoriale della Shoah di Milano alla stazione centrale di Milano il cosiddetto binario 21 sono soddisfatta la risposta perché vedo che appunto c'è un'attenzione sia per l'opera che va spostata va protetta e va valorizzata e quindi su questo ci aspettiamo che il Ministero dei Beni Culturali appunto dia il supporto specifico proprio di competenza sia per la nuova installazione perché la nuova installazione dovrà essere fatta non solo in modo più moderno ma dovrà in qualche modo intanto rendere giustizia a quelle che sono le principali vittime di Auschwitz cioè gli ebrei e che quindi hanno diritto a essere raccontati narrati e la loro memoria trasmessa alle giovani generazioni come appunto famiglie bambini adulti anziani che appunto hanno trovato la morte ad Auschwitz trovo questo molto importante e trovo importante che appunto lasciando ogni ideologia invece di fare la guerra delle memorie diciamo così tra i deportati politici e le comunità ebraiche noi invece troviamo il modo di narrare quello che fu che è stata una delle più grandi tragedie del nostro tempo grazie grazie a lei passiamo all'interrogazione numero 3 1297 dei deputati Sorial ed altri concernente intendimenti del governo in merito alla costituzione di parte civile nell'ambito dei processi in corso perso il tribunale di Trani nei confronti di alcune agenzie di rating l'onorevole Pesco ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto grazie signor presidente intervengo su fatti gravissimi che sono successi a Trani ebbene a Trani è in svolgimento un processo dove le agenzie di rating le due tra le più famose sono accusate di aver costruito e manipolato dei giudizi negativi a carico del nostro paese negli anni tra il 2010 e il 2012 ricordiamo tutti cosa è successo in quel periodo il nostro rating è sceso i tassi di interesse sui nostri sui nostri titoli sono saliti vertiginosamente il fine sappiamo tutti che era quello di insediare il governo Monti ebbene cosa vuol dire vuol dire che i nostri cittadini hanno subito un danno gravissimo un danno gravissimo ma la cosa ancora più grave è che questo governo non sia costituito parte civile in questo processo il che vuol dire che i cittadini non potranno essere risarciti e questa è una cosa gravissima ma soprattutto è grave il fatto che siano palesi due cose uno che vi ha complicità tra questo governo e l'agenzia di rating probabilmente perché vi è uno stretto rapporto probabilmente perché non riescono a resistere ma a ricatto la seconda è il fatto che se qualcuno ha tradito gli interessi dei cittadini vuol dire che ha tradito la nazione e vuol dire che ha tradito la democrazia grazie 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 presidente ovviamente il quesito è rivolto al ministro dell'economia che oggi è impegnato all'estero per appuntamenti istituzionali e quindi rispondo sulla base degli elementi forniti dal ministero dell'economia che aveva la valutazione in ordine alla costituzione in giudizio rispetto al processo citato nel quesito respingo in via preliminare ogni ipotesi di connessione tra lo Stato e il governo italiano ovviamente e le agenzie di rating ciò detto lo Stato italiano valuta la propria costituzione in giudizio in ambito penale laddove ritenga che sussista un danno e quindi ci sia la possibilità di chiedere un risarcimento del danno stesso questo a prescindere dal fatto che possano essere lesi gli interessi dei consumatori che per quanto interessi giuridicamente rilevanti non attengono alle valutazioni dell'amministrazione statale nel caso specifico non si sono rilevate prove evidenti di una connessione tra l'annuncio pubblico del declassamento della diciamo Repubblica Italiana quindi del downgrading operato da queste società di rating a mercati aperti e l'andamento dei titoli sia perché appunto l'andamento dei titoli è determinato da molteplici fattori sul mercato e quindi non c'era una stretta evidenza sia perché nei giorni immediatamente successivi non ci sono state collocazioni di titoli di Stato quindi non si è potuto verificare un impatto negativo né un particolare andamento negativo conclamato dei titoli italiani del sistema bancario e quindi del debito pubblico in generale valutazioni analoghe peraltro hanno portato anche Banca d'Italia a non costituirsi nell'ambito dello stesso giudizio proprio perché era avvisato che non ci fossero gli estremi di un danno e che non ci fosse uno stretto collegamento tra le agenzie di rating e quindi quanto pronunciato dagli esponenti di queste agenzie di rating e l'andamento complessivo del mercato di diversi paesi appartenenti alla zona euro in quei giorni quindi la considerate variabili indipendenti non ci sono peraltro riscontri della denuncia presentata dalla DUSBEF che invece viene citata nel quesito e quindi di eventuali quantificazioni da parte della Corte dei Conti non ci sono ritorni fermo restando che ovviamente lo Stato laddove nell'ambito del giudizio penale venisse accertato un danno potrà intentare in ambito civile una causa autonoma per chiedere risarcimento del danno se invece dovesse emergere grazie facoltà di replicare l'onorevole Giorgio Sorial per due minuti grazie presidente c'è un danno c'è un danno di 120 miliardi quantificato dalla Corte dei Conti e legato a questa manipolazione ma abbiamo qua la dimostrazione che le agenzie controllate da multinazionali della finanza fanno il loro interesse controllori succubi decontrollati e il ministro ha semplicemente preferito fare l'ossequioso di fronte a questa gente piuttosto che tentare di incassare un grosso risarcimento da girare sugli investimenti produttivi e sul welfare ricordiamolo nel 2011 e 2012 la manipolazione sul rating ha sottratto sovranità sui conti e democrazia nelle scelte politiche c'è un danno di 120 miliardi di euro ma voi non vi rendete conto di quanti redditi di cittadinanza si possono fare con 120 miliardi di euro semplicemente il MEF non vuole riparare sapete perché non vuole riparare? perché non vuole assolutamente e non ci tiene alla sovranità e alla democrazia in questo paese sono principi lontani da questo governo allora mentre il governo italiano sta fermo in Spagna nel 2011 le tre agenzie di rating internazionali vengono denunciate da una decina di studi legali spagnoli con l'accusa di aver alterato i prezzi dei mercati nella crisi del debito nel 2011 in Portogallo vari economisti hanno presentato alla procura generale della repubblica una denuncia penale contro le agenzie di rating per un presunto reato di manipolazione dei mercati ma persino recentemente Obama la Casa Bianca gli Stati Uniti hanno denunciato Standard & Poor per aver contribuito alla crisi dei mutui subprime del 2008 e l'agenzia di rating sta patteggiando un risarcimento da un miliardo e mezzo allora anche fosse solo un patteggiamento da un miliardo di euro il ministro dell'economia e finanza non costituendosi parte civile dimostra la sudditanza nei confronti dell'agenzia di rating a danno dei cittadini italiani con una gravissima gravissima responsabilità del ministro Padoan che non può rappresentare in alcun modo i cittadini italiani e la situazione di crisi dei cittadini italiani grazie è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sospendo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16 e 30 con il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario la riduzione del numero dei parlamentari il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione la seduta è sospesa grazie a tutti 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 grazie a tutti